Approvato il progetto di fattibilità per una spesa pari a circa 4 milioni di euro che consiste nella messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della costa del comune Capaccese, un progetto ambizioso dove il sindaco Alfieri mira a portare avanti soprattutto la valorizzazione dei 13 chilometri di costa che fino ad ora era stata vista dalle precedenti amministrazioni come un ostacolo. Un grande valore quello della costa, della spiaggia, della fascia pinetale, sottoutilizzata a volte nel degrado e quindi approvazione di un progetto preliminare ma rapidamente arriveremo al definitivo esecutivo perché già per l'estate prossima ci dovranno essere delle novità. Fruibilità di una parte della costa soprattutto nella parte abitata della zona Laura, vedremo nella zona Licinella, parcheggi, quindi novità interessanti che renderanno più vivibile, più fruibile e più sostenibile la fascia costiera. Nonostante i 13 chilometri di costa il comune di Capaccio Pestumo non ha un lungomare, da qui l'esigenza di crearne uno per fruire pienamente della risorsa mare per 12 mesi all'anno e non solo nel periodo estivo. Un punto di ritrovo insomma che andrà ad intensificare il turismo anche nei mesi invernali e dove ci sarà la possibilità di fare aggregazione per le famiglie e i cittadini.